Ciao a tutti, chi ti ama davvero fa queste tre cose. La prima cosa che fa una persona che ti ama, un uomo che ti ama davvero, è ti dà fiducia, si fida di te. Perché se non si fidasse di te, se non si fida di te, significa che non ti ama. E quindi deve manifestare una scarsa gelosia. Lo so che normalmente si pensa al contrario, normalmente si pensa se non è geloso significa che non mi ama. Invece no, perché il fatto che tu lo veda geloso è soltanto dato dalla tua insicurezza. Perché tu cerchi una conferma del fatto che un uomo ti ami attraverso la sua manifestazione di gelosia. E invece se è geloso non ti ama per niente, ti vuole controllare e significa che non ti dà fiducia. Quindi questo è un primo fatto fondamentale. Se ti ama non deve essere geloso, deve darti fiducia. E se tu pensi che un po' di gelosia ci vuole, significa che sei insicura. Significa che dentro di te hai la paura di perdere quella persona. Significa che la perderai quindi. Perché più sei gelosa, più speri che lui sia geloso, più lo perderai, anche se tu sei gelosa. La gelosia è una bagliar di cani che attira i ladri. La seconda cosa fondamentale che deve fare un uomo che ti ama davvero è praticamente quella di essere generoso. Ma non generoso da un punto di vista economico, cioè non deve essere avaro. Generoso da un punto di vista dell'affetto. Generoso da un punto di vista delle attenzioni. Generoso da un punto di vista della presenza. Generoso da un punto di vista del darti le sue energie. Ecco, diciamolo in questo modo. Deve darti energie. Perché se non ti dà energie, significa che non ti ama, significa che se ne frega. Cioè se per te fa tutto quello che fa per gli altri, vuol dire che sì, potrà essere una persona importante. Quanto lo sono tutti gli altri, insomma. E questo significa che non ti ama. Comunque che non ti ama più di tanto, insomma. Che non ti ama più di tanto. Ma con te ha un rapporto superficiale. Ha un rapporto, o comunque di abitudine. Ma non prova veramente amore. Inteso come desiderio che l'altra persona possa essere felice. Questo è fondamentale. E la terza cosa importantissima che fa un uomo che ti ama, che ti ama davvero, è quello di mettersi complementare, ma in modo paritario, a quelle che sono le tue esigenze. Cioè non ti penalizza costantemente. Quindi cerca di venirti incontro. Cerca di capire quelli che sono i tuoi bisogni. Cerca di entrare in empatia, ecco. Cioè in empatia profonda con te vuol dire che, ovviamente l'empatia deve essere reciproca, che però si mette nei tuoi panni. Una cosa che deve fare è mettersi nei tuoi panni, fondamentalmente. Capire ed accettare anche quelli che magari dal suo punto di vista potrebbero essere viste come debolezze, visti come difetti, ma deve apprezzarli. Perché non si può giudicare una persona soltanto dai difetti. Cioè se lui si focalizza sui tuoi difetti, significa che non ti ama. Se si focalizza sulle cose positive, sulle cose belle, sui tuoi pregi, allora significa che ti ama. Queste tre cose che ho detto ci devono essere contemporaneamente. Se ci sono contemporaneamente, allora significa che quest'uomo ti ama davvero. Bene, per questo video è tutto. Seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al mio nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Ciao!